Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un processo scomparso, un processo dimenticato, anzi per nulla dimenticato, è proprio perché chi di dovere lo sa che non ne parla e dopo capirete il perché. A Palermo, in un'aula della quarta sezione penale del Tribunale, si sta processando l'ex capo dei servizi segreti civili, l'ex capo del SISDE che è un prefetto, ma è anche un generale dei Carabinieri e si chiama Mario Mori, un omino piccolo, un valoroso ufficiale dell'arma che ha lavorato con Dalla Chiesa ai tempi del terrorismo, che ha lavorato al ROS che è il reparto delle operazioni speciali dei Carabinieri, ha guidato il ROS, è un pluri decorato e medagliato per la cattura di Riina e di tanti altri latitanti mafiosi, eppure pare nasconda dei segreti, pare, perché nessuno è in grado di affermarlo ancora con certezza, il processo è in corso, ma ne sarei abbastanza certo in quanto penso che questa sia una delle massime eccellenze investigative che abbiamo avuto in Italia e che evidentemente nella stagione delle stragi di mafia è stato investito da un qualche potere che non conosciamo, ecco perché dico che pare, nasconda dei segreti, del compito, dell'ingrato compito, del terribile compito di trattare con la mafia mentre l'Italia veniva messa a ferro e a fuoco dalle bombe in Sicilia nel 1992 e addirittura nel continente a Milano, Firenze e Roma nel 1993. Ora però non è imputato per quello, è imputato per una questione che potrebbe spiegare quella trattativa e potrebbe spiegare quel misterioso episodio che è stato oggetto di un altro processo e che immediatamente precede l'episodio per il quale Mori adesso è imputato, la mancata cattura di Riina. Questo processo si riferisce invece, scusate, non la mancata cattura di Riina, la mancata perquisizione del covo di Riina dopo la sua cattura. Questo processo però si riferisce a un altro episodio che segue di due anni da mancata perquisizione del covo di Riina e risale al 1995, precisamente al 31 ottobre 1995. Che cosa succede il 31 ottobre 1995? Un colonnello dallo stesso Ross dei Carabinieri, grazie a un mafioso suo confidente sotto copertura, infiltrato nella mafia ma confidente dei Carabinieri, riesce a scoprire dove è nascosto Provenzano. Provenzano nel 1995, due anni dopo la cattura di Riina, due anni dopo le ultime stragi, è il capo indiscusso di Cosa Nostra. Il confidente avverte questo colonnello dei Carabinieri che si chiama Luigi Riccio, il consulente si chiama Luigi Lardo, il carabiniere si chiama Michele Riccio, il confidente riesce a scoprire dove è nascosto Provenzano. Di più, incontra Provenzano, ha un appuntamento con Provenzano in questo casolare di Mezzo Iuso, che è un centro di campagna a una trentina di chilometri a sud di Palermo e quindi naturalmente dice sto per incontrare Provenzano, venitemi dietro che vi faccio catturare Provenzano. Il colonnello Riccio è entusiasta e parla con i vertici del Ross, sono generali, c'è il colonnello Mori che è il capo operativo, c'è il braccio destro del colonnello Mori e l'allora maggiore Mario Obinu, i quali decidono di non catturare Provenzano, ma semplicemente di far pedinare il confidente a distanza per vedere dove va e poi cercare di prendere Provenzano quando saranno più pronti, così dicono. Purtroppo passata quell'occasione Provenzano non ne consentirà un'altra fino a quando, 11 anni dopo, nel 2006, all'indomani delle elezioni vinte dal centro-sinistra quasi 3 anni fa, Provenzano verrà catturato o verrà consegnato, o si consegnerà o si lascerà prendere, perché sapete che le catture dei boss in Sicilia destano sempre interrogativi, dubbi, interpretazioni pirandelliane in quel gioco di specchi dove non si riesce mai a capire chi ha fatto che cosa e perché, esattamente come la cattura di Totorrina nel 1993, questo processo, se uno lo conosce, aiuta la gente, non solo gli esperti, la gente comune a capire che cosa è successo tra lo Stato e la mafia negli ultimi 15 anni e potrebbe riscrivere questo processo, la storia della mafia e dell'antimafia negli ultimi 15-20 anni. Infatti i pubblici ministeri, il pubblico ministero principale, sono in tre che lavorano, sono Nicco Gozzo, Antonio Ingroia e Nino Di Matteo, quello che si è occupato fin dall'inizio di questa indagine è Di Matteo, il 15 luglio dell'anno scorso quando è iniziato il processo, dopo il rinvio giudizio di Mori e di Obinu, ha tracciato davanti ai magistrati la sua ipotesi accusatoria dicendo in questo processo intendiamo dimostrare questo, questo e quest'altro con le seguenti prove, le seguenti testimonianze etc., dopodiché naturalmente è intervenuto l'Avvocato Pietro Miglio in rappresentanza della difesa dei due ufficiali, il quale invece ha detto noi dimostreremo che i nostri due clienti, Mori e Obinu sono innocenti e che non c'è nessun mistero e che Provenzano non si poteva catturare etc. Qual è l'ipotesi accusatoria che a noi interessa? Non tanto, come sempre l'abbiamo detto milioni di volte, ma ancora è bene ripeterlo, non è tanto interessante sapere se Mori e Obinu hanno commesso dei reati, quelli sono fatti loro, sono fatti dei magistrati, sono fatti degli Avvocati, quello è il processo nel suo aspetto giuridico, poi c'è il processo nel suo aspetto pubblico e cioè nell'aspetto che interessa a noi o dovrebbe interessare a noi se qualcuno ce lo raccontasse e cioè sapere chi ha fatto che cosa e perché, se poi è reato oppure no, poco importa a questo punto, importerebbe sapere se lo Stato era tutto compatto nel voler combattere la mafia, se lo Stato aveva una sola strategia per combattere la mafia, se è vero che lo Stato e la mafia si sono sempre contrapposti in questi ultimi vent'anni e se è vero quello che ci veniva raccontato mentre esplodevano le bombe che uccidevano Falcone e la scorta e la moglie e poi Borsellino e la scorta e poi tanti innocenti, cittadini comuni presi per caso dalle bombe di via Palestro a Milano, di via De Georgofili a Firenze e delle basiliche di San Giorgio al Velabro di San Giovanni in Laterano a Roma per non parlare dell'attentato di via Fauro contro Maurizio Costanzo, se quello che ci veniva detto e cioè non abbasseremo la guardia, nessuna pietà, era vero oppure era la solita declamazione retorica, qui sembrerebbe che dietro le quinte, mentre lo Stato faceva la faccia feroce davanti alle telecamere, dietro le quinte fosse in realtà affaccendato a trattare con i mafiosi evidentemente perché l'aveva sempre fatto in passato ed evidentemente perché ha continuato a farlo in futuro ed è interessante allora questa storia per capire un po' tutto, perché se fosse vera l'ipotesi accusatoria, il reato che viene contestato a Mori e a Obinu è piuttosto grave, favoreggiamento aggravato e continuato a Cosa Nostra, in particolare a Provenzano. Qual è questa tesi accusatoria? La tesi accusatoria è che nel 1915, quando la Milano esplode Tangentopoli, la Corte di Cassazione conferma le condanne dei mafiosi che Falcone e Borsellino con grande fatica sono riusciti a far condannare nel maxiprocesso nato dalle dichiarazioni di Buscette e di altri due pentiti, Contorno e Calderone. La mafia si aspetta che la Cassazione con il solito carnevale annullerà tutto e rimanderà liberi e belli i boss nelle loro case e invece Carnevale non presiede il collegio quella volta perché è stata istituita una sorta di principio di rotazione e lo stesso Carnevale ha preferito per motivi di opportunità, pieno della polemica, cedere il passo a un altro Presidente, basta il cambio del Presidente per fare in modo che quasi tutte le condanne del maxiprocesso vengano confermate. Per la mafia è uno shock bestiale la fine della sua impunità storica ed è anche un problema materiale, i boss invece di uscire restano dentro con la prospettiva di non uscire più o quasi, anche perché sono piuttosto agè i boss mafiosi quando vengono presi di solito. C'è dunque una reazione della mafia che è a metà una vendetta nei confronti dei referenti politici e istituzionali che evidentemente non hanno mantenuto le promesse e non hanno saputo conservare l'impunità che sempre avevano garantito a Cosa Nostra e quindi c'è l'eliminazione di Salvo Lima il 13 marzo 1992 a Palermo, c'è l'eliminazione di uno dei due cugini Salvo, Ignazio, l'altro Nino era già morto per conto suo e poi c'è l'omicidio Falcone che è un salto di qualità, non è una vendetta nei confronti di un vecchio amico della mafia che ha tradito, ci mancherebbe altro, è semplicemente un attentato preventivo per impedire a Falcone di continuare a fare quello che già stava facendo, è grazie a Falcone se si era acceso un faro sulla prima sezione penale della Cassazione sul ruolo di Carnevale e se Carnevale non aveva presieduto quel collegio al massi processo, perché Falcone, dirigente del Ministero della Giustizia sotto il Ministro Martelli, aveva messo nel mirino Carnevale che era considerato da lui e non soltanto da lui il tappo che impediva le condanne definitive e mafiosi, viene ucciso Falcone, viene ucciso Borsellino perché nel frattempo si è avviata una trattativa tra chi? Tra il allora Colonnello Mori e il suo collaboratore del momento più fedele, il Capitano De Donno e Vito Ciancimino, un vecchio sindaco mafioso di Palermo che in quel momento stava agli arresti domiciliari a Roma per motivi di salute, questi due alti ufficiali dei Carabinieri vanno da un noto mafioso condannato per mafia e gli chiedono di fare da tramite con i vertici di Cosa Nostra, in quel momento siamo nel 1992, c'è ancora la diarchia Riina-Provenzano. Ciancimino è più uomo di Provenzano che non di Riina, in ogni caso fa da tramite, i Carabinieri diranno di aver voluto avviare quella trattativa nella speranza di avere un aiuto per arrestare dei latitanti mafiosi e di fermare in qualche modo le stragi che erano iniziati con quella di Capaci, il risultato è che Riina capisce esattamente a rovescio, vede i Carabinieri, lo Stato con il cappello in mano dopo la strage di Capaci e si felicita con se stesso per aver avuto quella brillante idea di ricattare lo Stato con una strage dopo l'altra, perché? Perché lui voleva naturalmente non lo scontro con lo Stato, lui voleva punire chi aveva tradito per conto dello Stato gli accordi con Cosa Nostra, ma voleva anche fare un nuovo accordo con persone che fossero in grado di rispettarlo poi quell'accordo, voleva un nuovo trattato di reciproca non belligeranza, convenienza, convivenza, connivenza e dato che la classe politica se ne stava praticamente andando con le indagini di mani pulite, bisognava attrarre qualche nuovo soggetto politico istituzionale per andare a prendersi questa responsabilità di fare il nuovo accordo con la mafia. Per questo Riina mette le bombe, per questo si felicita nel vedere che sono arrivati subito i Carabinieri col cappello in mano e allora Riina dice perché cedere subito per un piatto di lenticchie? Possiamo rilanciare alzando il tiro con altre stragi e alzando dunque la posta della trattativa così lo Stato ci darà molto di più. La trattativa prosegue addirittura, parte quindi dopo la strage di Capaci e immediatamente produce, questo è molto probabile, la strage di Via D'Amelio perché Borsellino è il simbolo vivente del partito della non trattativa, adesso c'è tutta una polemica nata dalle rivelazioni del figlio di Ciancimino e ripresa giustamente da Salvatore Borsellino a proposito di un famoso incontro che ci sarebbe stato al Viminale il 2 luglio del 1992 tra Borsellino e l'allora Ministro dell'Interno Mancino, dove secondo alcuni avrebbe fatto Capolino anche Bruno Contrada e dopo il quale incontro Borsellino sarebbe rientrato agitatissimo nell'interrogatorio che stava facendo con Gaspare Mutolo che guarda caso era proprio uno dei primi pentiti che parlavano di Andreotti, di Contrada e di Carnevale. Agitatissimo perché evidentemente, così sostiene il figlio di Ciancimino, Borsellino era stato in qualche modo informato al Viminale che c'era in corso una trattativa e gli si chiedeva il suo consenso e immaginate se Borsellino avrebbe potuto dare il consenso a trattare con la mafia che il mese precedente gli aveva ammazzato il suo migliore amico, è evidente che Borsellino diventa l'ostacolo numero uno sulla strada della trattativa e in ogni caso Riina lo intende così, tant'è che lo elimina da quella strada per spianare la strada della trattativa. Dopodiché vengono pianificati gli attentati del 1993 ai monumenti e ai simboli dell'arte, della religione, dei simboli dell'Italia praticamente, ma Riina il 14 gennaio 1993 viene arrestato dagli stessi uomini del Ross che stanno trattando con Cosa Nostra e lì succede quel fatto increscioso, il Ross arresta Riina, promette che sorveglierà giorno e notte la casa dove Riina era latitante per vedere se arrivavano altri mafiosi perché i mafiosi non sapevano che fosse stato scoperto il covo, Riina era stato arrestato lontano da casa e dopodiché ingannando la procura di Caselli, gli uomini del Ross abbandonano il covo e lo lasciano incustodito e dunque lo lasciano perquisire a Cosa Nostra, che l'abbiano fatto apposta, che non l'abbiano fatto apposta, che si siano dimenticati, che si siano sbagliati, non lo sappiamo, il processo che si è tenuto fino a due anni fa a Palermo non ha appurato il dolo, non poteva del resto appurare che Mori e l'allora capitano ultimo avessero fatto apposta queste omissioni per favorire la mafia, questa era l'accusa, da questa sono stati assolti, ma il processo ha appurato e il covo non è stato sorvegliato, non è stato neanche perquisito e quindi chi lo ha perquisito? Cosa Nostra, capeggiata da chi? Dopo l'arresto di Riina, capeggiata da Provenzano, c'erano i segreti, le carte della trattativa, c'era il famoso papello che il figlio di Ciancimino assicura essere stato passato da suo padre al generale Mori durante la trattativa con l'elenco delle richieste che la mafia faceva allo Stato per interrompere le stragi, fine dei pentiti, fine del 41 bis, fine dell'ergastolo, revisione del maxiprocesso e fine del sequestro dei beni, non lo sappiamo, sappiamo che lo Stato rinuncia a perquisire il covo di Riina e cosa succede subito dopo? Succede che due anni anni dopo c'è la possibilità di prendere Provenzano, c'è la possibilità di prendere Provenzano perché il confidente Ilardo porta praticamente a casa di Provenzano i carabinieri, ma dice il colonnello Riccio che gestisce il confidente Ilardo, il ros dei carabinieri, Provenzano non lo voleva prendere. Per chi vuole entrare nel dettaglio di questo processo, non dimenticatevi che la fine di questo mese, il 30 gennaio uscirà un piccolo librino che ho curato io, un fascicoletto insieme a Micromega, alla rivista Micromega di Flores d'Arcais e quindi lì troverete tutti i dettagli con le parole proprio, con la versione dell'accusa, la versione della difesa e poi tutto il racconto del colonnello Riccio che è spaventoso. La parte più spaventosa, le parti più spaventose sono due, la prima è quando il colonnello Riccio racconta che Ilardo, che nel frattempo stava decidendo di diventare un collaboratore di giustizia, di uscire da quella veste ambigua e rischiosa dell'infiltrato dentro la mafia, confidente dei carabinieri, con rischio di essere ammazzato da un giorno all'altro decide di diventare collaboratore di giustizia e quindi di entrare con la sua famiglia nel programma di protezione dello Stato. Fanno una riunione a Roma per stabilire i termini della sua collaborazione con i magistrati interessati, c'è Caselli, procuratore di Palermo e c'è Tinebra, procuratore di Caltanissetta, c'è il generale Mori, Mori nel frattempo ha fatto carriera e Ilardo appena vede Mori, gli va incontro, nemmeno lo saluta, gli dice subito guardi colonnello che le stragi che abbiamo dovuto fare noi le avete commissionate voi dello Stato, questo è il concetto, immaginate un ufficiale dei carabinieri che ha combattuto il terrorismo, ha combattuto la mafia e si sente dire da un mafioso appena arrivato che le stragi le ha fatte lo Stato, che fa? Gli mette le mani addosso, gli dice ma ne racconti un'altra, ma come si permette, che ne so? Il racconto di Riccio è agghiacciante perché Riccio sostiene che Mori rimase irrigidito per qualche secondo, silenzio, paralisi, tensione, poi gira i tacchi e se ne va. Il secondo episodio agghiacciante è quello che succede subito dopo quella maledetta riunione che si tiene il 2 maggio 1996 a Roma, nella quale viene deciso che Ilardo diventerà un collaboratore di giustizia. Ilardo torna in Sicilia perché ha chiesto una settimana per poter avvertire i suoi parenti di quello che sta per succedere, perché dovrà andare via poi per sempre dalla Sicilia, quello che succede con i pentiti e con i testimoni di giustizia e appena arriva in Sicilia qualcuno fa sapere a Cosa Nostra che lui in realtà è un mafioso che sta tradendo Cosa Nostra, che sta per cominciare a parlare, a mettere a verbale e quindi viene ucciso da un killer di Cosa Nostra a Catania, proprio la collaborazione viene soffocata nella culla, il giorno prima che lui entrasse nel programma di protezione la mafia lo elimina perché? Perché qualcuno dei pochissimi esponenti delle istituzioni che sapevano del suo eminente pentimento ha fatto la fuga di notizie, deve essere qualcuno che partecipava a quella riunione a Roma o che ha parlato con qualcuno che aveva partecipato a quella riunione. Ilardo dunque muore, il colonnello Riccio poi pagherà un prezzo altissimo perché due anni dopo essersi scontrato con i vertici del Rosso che non avevano voluto catturare Provenzano, viene arrestato a sua volta da uomini del Rosso e da suoi colleghi per delle operazioni antidroga a Genova molto controverse, secondo alcuni erano operazioni brillantissime, la DEA gli aveva addirittura dato degli encomi solenni, la DEA è l'antidroga americana, secondo altri invece erano operazioni disinvolte, viene arrestato con i suoi collaboratori per traffico di droga e viene condannato in primo grado a 9 anni, secondo alcuni potrebbe essere una manovra per delegittimare il suo racconto perché il colonnello Riccio ha delle agende nelle quali ha segnato tutte le confidenze che Ilardo gli faceva sui rapporti mafia politica, e gli aveva parlato di Dell'Utri, di Andreotti, di Mannino, di Salvo Andò, di altri politici che secondo lui avevano rapporti con la mafia e gli aveva parlato anche di quel dolcino Favi che all'epoca era in servizio a Siracusa nella magistratura e che poi arriverà a fare il procuratore generale reggente di Catanzaro e troveremo due anni fa a togliere l'inchiesta why not dalle mani di De Magistris. Tutte cose naturalmente da verificare, resta il fatto che alla vigilia della verbalizzazione di quelle dichiarazioni Ilardo viene proprio con precisione cronometrica assassinato e quindi quello che ha detto evidentemente assume una discreta importanza. In questo processo tramite il colonnello Riccio Ilardo dall'aldilà parla tramite le agende del colonnello Riccio e il colonnello Riccio conclude i tre giorni le tre udienze dedicate al suo esame, alla sua deposizione ricordando che il generale Mori gli ordinò di non scrivere nei rapporti investigativi nessun nome di politico tra quelli fatti di Dailardo, nemmeno quello di Dell'Utri. Mori e altri ufficiali del Ross spiegarono al colonnello Riccio che Dell'Utri e Berlusconi stavano facendo le stesse battaglie contro i giudici che interessavano al Ross e che, insomma, questa fu l'espressione, Berlusconi e Dell'Utri sono di casa nostra, cioè noi del Ross dei Carabinieri apparteniamo alla stessa casa di Berlusconi e Dell'Utri. Nel processo vedremo se questa mancata cattura di Provenzano è reato o no, se è stata fatta per favorire la mafia oppure no, già sappiamo da quello che dice Riccio che Provenzano poteva essere catturato 11 anni prima, quando era ancora un po' più in carne, un po' più in forze e soprattutto un po' più potente e un po' più importante. Soprattutto sappiamo che di questo processo non si deve parlare, non si deve parlare perché ci riporta alle stragi e alle trattative fra Stato e mafia e quello è un tema che non può essere affrontato dall'informazione italiana perché è un tema che riguarda la nascita della Seconda Repubblica, una Seconda Repubblica che non è purtroppo nata dal sangue della Resistenza, ma è nata dal sangue delle stragi e quindi chi ne parla o chi ne vuole parlare letteralmente muore. Passate parola.